Buongiorno a tutti, a tutti, a ciascuno di voi e io sono felicissima che ci sia anche quest'anno questa possibilità, questa Summer School sulla lettura analitico-sintetica dei testi letterali che vede quest'anno la sua sesta edizione. E le cose, evidentemente, ripensando un po' a questo raduno, ci offrono una possibilità, le cui implicazioni non sono prevedibili. Se penso a questi sei anni, il fatto che ci siamo trovati a pubblicare un libro, una nuova edizione degli scritti dal sottosuolo. Che abbiamo dato il via ad una sperimentazione che coinvolge centinaia e centinaia di ragazzi dalle scuole italiane. Che partecipiamo come bottega alla convention nazionale di DS e tra le altre cose. Eppure, non so perché, ma dopo sei anni, mi sembra come di ritornare all'inizio. All'inizio mi ha conquistato il fatto di imbattermi qualcuno, la professoressa casacchina, che vedeva cose che io non vedevo, leggendo i testi. E risolvendo di fatto, in un istante, quando l'ho vista in azione, leggendo, anche questo mio fastidio e disagio di tanti anni, negli imbattermi invece in analisi, magari ricche, sofisticate, che però facevano del testo un pretesto, sostanzialmente, su cui andare a costruire questa sovrastruttura. e imbattermi qualcuno che, appunto, vedeva anche i particolari, che non vedeva, ma soprattutto, che di quei particolari, quei dettagli, faceva il barco per entrare nel mare vastissimo del significato dell'opera. E più andiamo avanti con il lavoro, quello che mi sorprende è che più andiamo avanti, più cresce la percezione di non capire. Anche a fronte di letture notte, tra virgolette, di testi notti, di autori, più o meno notti. E allo stesso tempo, però, cresce la percezione di sfiorare cose grandiose. Come uno, se si inoltrasse in un mare artico, dove tu vedi semplicemente queste emergenze. ma intuisci che sono tutta la profondità, la profondità dell'iceberg che tu non vedi, che intuisci solo la presenza. Come accedere alla profondità? Perché, se c'è una evidenza, penso che valga nella nostra vita di persone, di insegnanti, quindi nel nostro lavoro, senza profondità, è come se si fosse perennemente fuori casa, cioè fuori chiave, scentrati. Quindi questa profondità è assolutamente necessaria, non è così un accessorio della nostra vita. Quindi, cosa significa veramente conoscere? Quando e come la lettura è conoscenza, esperienza nel mondo, è fortissima la tentazione di estrapolare da un'opera, da un testo degli aspetti e poi di riconfigurarli secondo un sistema di pensiero nostro, che nulla ha a che vedere col pensiero. E questo rischio, io mi accordo, nel mio lavoro, ma non ho semplicemente un'esperienza di vita, di lettrice, di vita. Questo rischio è perenne e continuo, e rappresenta una perdita irreparabile. Potremmo dire una cosa, scusa? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Quindi, dicevo di questa tentazione, questo rischio perenne e continuo, che rappresenta una perdita irreparabile. Perché? Perché è proprio la perdita di quel livello di soddisfazione umana e anche intellettiva, che si chiama gioia. La gioia riconoscere. La gioia riconoscere. La gioia riconoscere. La gioia riconoscere. Cosa può aiutarci a non rimanere intrapolacchi dentro i nostri meravigliosi palazzi di cristallo, mentre la vita, vita, viva, vera, si vuole gioco. Io vorrei aprire così. Prima di dare la parola alla professoressa Casatti, vorrei solo fare qualche piccolo accenno sul fatto che questa iniziativa nasce praticamente i soggetti promotori sono l'associazione DS qui abbiamo l'onore quest'anno di avere il presidente tra un minuto ci rivolgerà un saluto e una rete di scuole del territorio nazionale di cui luosi mirandola è la scuola capofila. dico anche questo che come lavoreremo nei prossimi giorni vabbè l'opera sapete che è idiotica sui eschi ma non solo perché noi sperimenteremo il metodo anche su di un film di cui adesso non dico nulla scopriremo scopriremo tutto sostanzialmente si procede così al mattino dopo aver andato tutti gli orari mattino si lavora o personalmente o a piccoli gruppi poi le 11.30 c'è il seminario in cui di fatto condividiamo le domande le scoperte invece nel pomeriggio alle 15 c'è la lezione la lezione fondativa di quel giorno il piano dei lavori e basta e allora se di Michele Carlo scavi vai puoi venire al mio posto perché tanto io mi metto lì vieni 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 ciao ciao allora io ho veramente un brevissimo saluto di solito i saluti sono di circostanza nel senso che è il presidente che introduce i lavori, i seminari eccetera ma io sono venuto qui veramente con non per questo non per formalità ma veramente per due motivi fondamenti il primo è che sono personalmente molto colpito da questa esperienza quella che la professoressa Rossi ha riassunto brevemente introducendo i lavori di oggi ho parlato sono molto colpito perché credo che ci sia proprio una ricchezza dentro questo metodo che state sperimentando e che stiamo imparando dalla professoressa Casagna c'è una profondità di contenuto di metodo di approcci che interessa innanzitutto me scoprire anche se non insegna che non insegna come metodo e credo che questo sia proprio che ci sono perché è vero, che ci siamo già conosciuti, non ci sono davvero interessanti della nostra professione, della stagia scuola, lasciarsi continuamente provocare da quello che vediamo e tanto volte anche da quello che ci sfida, come problemi, come scoperte, come possibilità, quindi sono venuto veramente, anche se solo per due giorni, per rendermi conto per conosco la processa della Sartre, ho letto alcune cose, però veramente è un piacere. Innanzitutto per me essere qui e cercare di fare un piccolo passo dentro questa storia che vi sta accompagnando in questi anni. Il secondo aspetto è l'amicizia con Cristina e il fatto che questa iniziativa è nata da Cristina e da altri insegnanti, è nata dentro questa realtà associativa che si chiama DS, che è un'associazione professionale, non so se voi la conosciete o avete avuto modo di conoscerla, che ha come scopo fondamentale proprio questo, cioè aiutare gli insegnanti a mettersi in gioco, a raccogliere le sfide della scuola e a poter vincere forse uno dei mali maggiori che si sperimenta dentro la scuola, che era solitudine. Il fatto che ognuno bene o male spesso va avanti da solo e non ha mai un luogo in cui confrontarsi, in cui mettersi in cui essere valorizzato in quello che fa o poter correggere gli errori di cui si accorge. DS è proprio questa associazione che vuole proprio favorire questa amicizia operativa, professionale per insegnare. Per vincere la solitudine e allo stesso tempo per dare ai ragazzi di oggi una risposta agli interrogativi esistenziali, culturali, anche professionali, interrogativi che nella scuola attraverso alcuni impronti significativi possono trovare delle risposte e soprattutto possono trovare delle strade. Per cui, ne è un messaggio promozionale di DS, ma è per dire che questa associazione, questo tentativo, guarda con molta attenzione tutto ciò che nasce dal basso, perché ci rendiamo conto tutti quanti che oggi nessuno crede più che il cambiamento possa venire dall'altro. Invece, può venire dal basso, mettendosi insieme, creando reti, creando amici, creando rapporti. E il fatto che ci sia un rapporto che va anche ad Oriente, credo che sia una cosa molto importante, perché in questo momento noi abbiamo proprio bisogno, abbiamo bisogno di scoprire le cose vere dovunque queste siano, e magari in un luogo insospettabile, in un luogo imprevisto, perché insomma imprevisto come può essere il rapporto con la processa casacchia e con il mondo dell'euro. Quindi, buon lavoro, auguriamoci buon lavoro, grazie professoressa, grazie davvero. Saluto anche Elena, che non è soltanto una traduttrice, ma è un'amica molto, totalmente dentro questa realtà, e che ringrazio. E ci vedremo in questi giorni. Grazie. Grazie. Per idea, io dovrei iniziare a parlare. E vorrei dirvi che non sono mai stata agitata come questa volta all'inizio delle nostre scuole estive. Come sono agitata adesso? E non mi sono neanche mai preparata così tanto per le altre scuole estive come mi sono preparata per questa. E non mi sono mai sentita così impreparata. Allo stesso tempo non mi sono mai sentita così impreparata. E per questo le cause di questo, in un certo senso, alcune cause sono oggettive. e non mi sono sentita così impreparata. E non mi sono sentita così impreparata. Perché non ho appena mandato alla nostra splendida Laura l'informazione sul fatto che il film che avremmo guardato insieme sarebbe stato l'anticristo di Lars von Trier. Ho capito che eravamo andati a creare come una rima di coppie di testi che nell'arte di due grandi artisti, nella produzione artistica di due grandi artisti, erano gli artisti che davano più scandalo e allo stesso tempo gli artisti più incompresi. ma anche per questo e 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 per l'altro l'autore stesso Ritenevano che proprio questi fossero i testi più importanti di tutta la loro produzione artistica. Lars von Trier ha detto che l'anticristo è indubbiamente il migliore dei film che ha girato. Dostoevsky già alla fine della sua vita ha affermato che lui amava in particolare quei suoi lettori che amavano il romanzo L'Idiota. Che sentiva rispetto a questi lettori un legame interiore profondo. Perché lui aveva espresso in quel romanzo un qualcosa che sarebbe stato impossibile esprimere. E sentiva che comunque sarebbe sempre rimasto un qualcosa, e di questo parla il principe Mischkin, che non si riusciva a dire fino alla fine. Ed è proprio per questo che quei lettori che dicevano di amare quel romanzo e di comprendere quel romanzo erano persone che per lui diventavano come i più cari, più vicini, più familiari. A scandalo, a critiche, che si riusciva a parlare del romanzo L'Idiota. Mentre da un punto di vista della critica rispetto all'Idiota c'è stato proprio uno scandalo. E questo è successo i 3-4 anni dopo l'uscita del romanzo. E' stato un scandalo che per il suo impatto, per le dimensioni che ha avuto, è in tutto rapportabile allo scandalo che ha suscitato il film L'Anticristo di Lars von Trier. E non solo, perché in Russia Dostoevsky si è iniziato a leggerlo e a capirlo in profondità a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ma anche per quelle pliade di grandi filosofi che sono nati a cavallo in Russia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, in parte anche grazie a Dostoevsky. Perfino per loro il romanzo L'Idiota è rimasto il più incompreso tra le opere di Dostoevsky. E questi dubbi che avevano rispetto a questo romanzo li hanno espressi pubblicamente. Iniziamo a parlare di due testi che hanno dato così tanto scandalo. Io sono proprio come tremore. Perché l'energia del scandalo può benissimo emergere anche nel nostro lavoro che faremo di discussione di questi texti. Perché? Perché evidentemente questi testi hanno dato così tanto scandalo perché vanno a toccare qualcosa di molto profondo che c'è nell'uomo. Qualcosa che per l'uomo è più semplice rigettare, tenere lontano. E qualcosa che in un certo senso è anche meno pericoloso rigettare, tenere lontano. Piuttosto che non invece immergersi dentro quel qualcosa. E da qui penso che possiamo iniziare a parlare di quella teoria. La teoria di cui ci basiamo nel corso di tutte queste scuole estive. Teoria che nelle sue fondamenti abbiamo già descritto e è stata pubblicata nell'edizione del libro degli scritti sotto suolo. E per questo non torniamo ai fondamenti. Ragione per cui non torniamo ai fondamenti, quello potete leggerlo. E noi continuiamo a parlare di cose con cui ci siamo imbattuti nel nostro lavorare con questo metodo. E voglio ricordare che durante la nostra ultima scuola estiva si è verificata una situazione quando abbiamo guardato insieme il film di Lars von Trier Medea. Quando a un certo punto abbiamo avuto l'impressione di aver capito quale fosse il principio del film rispetto anche a tutti gli altri film di Lars von Trier. E ci sembrava che ormai sapessimo tutto. dietro quale personaggio c'era il dato archetipo e avevamo identificato tutto. E alla fine ci veniva fuori il quadro completo, tutto chiaro. E a un certo punto ci siamo accorti che non era affatto così. che in realtà alla base di quel film, le fondamenti di quel film erano, giacevano su una visione del mondo totalmente diversa. e che in quel film non c'erano per niente, non c'erano affatto gli archetipi su cui noi automaticamente avevamo proiettato tutto quello che ci sembrava di aver visto. E in questo senso per noi è importante capire innanzitutto che cosa ci è accaduto in quel momento. e anche che cosa fare per per superare quel qualcosa che ci è successo in quel momento. la questione è che la nostra intelligenza, la nostra mente è in modo naturale, preparata e in grado di per fare questa operazione, c'è una situazione, una qualche situazione che noi abbiamo formulato da un punto di vista del pensiero fino in fondo e la nostra mente è in grado di proiettarla, cioè l'abbiamo chiara fino in fondo, è in grado di proiettarla su un'altra situazione. perché la nostra mente fa così semplicemente perché è un'operazione molto immensamente economica per la mente. cioè una volta che abbiamo riconosciuto alcuni punti di similitudine nella situazione successiva noi tracciamo delle linee tra le due situazioni noi tra i punti simili che abbiamo identificato tracciamo delle linee che rendono il trattaggio della seconda situazione simili a quello della prima scusa, lo ridico perché per che si sia capito nella situazione 2 noi vediamo dei punti simili a quelli della situazione 1 che noi conosciamo già bene allora cosa facciamo? chiaro? sì e la prima cosa che ci dà questa operazione è tranquillità perché noi così possediamo la situazione e anche questa è una risorsa interiore molto importante da cui non vogliamo rinunciare a cui noi non vogliamo rinunciare non vogliamo per niente rinunciare e se ad esempio torniamo a parlare della filologia questa è una cosa che ha funzionato praticamente in tutte le storie delle scuole filologiche quando la modalità di analisi dei testi proposta suggerita da qualcuno dei grandi scienziati studiosi veniva percepita come un piano generale di analisi per svolgere delle analisi con cui possiamo rinunciare con cui, afferrando il quale, noi potremmo approcciarci a qualsiasi testo è praticamente la storia di tutte le scuole filologiche è praticamente la storia di tutte le scuole filologiche è praticamente la storia di come una chiave individuale è stata trasformata in un passepartout e come potete capire questa è una grande tentazione perché tutte le persone qua che hanno insegnato almeno una volta capiscono quanto sia importante entrare in classe sapendo quello che si farà e capiscono anche quanto fa paura entrare in classe quando non si sa che cosa si farà in quella lezione e per questo, anche se capiscono che ci sarà una riduzione o una perdita ed è per questo che pur capendo che in questo ci sarà una riduzione o una perdita noi tendiamo sempre a afferrarci a quel piano che abbiamo già deciso ma come capite benissimo tutte anche le scuole filologiche più grandi partono da grandi scoperte grandi studiosi ma in fin dei conti si generano e anche abbastanza in fretta file di imitatori e di per sé una qualsiasi riproduzione di quella situazione che una volta è riuscita porta a questa imitazione che può anche essere una cosa che impressiona molto, che colpisce molto che può anche affascinare, incantare, può essere una cosa che incanta ma che in fin dei conti avrà già ormai molto poco a che fare con il testo in questione e questa è la nostra tensione a rimanere attaccati al nostro piano lo si può spiegare in tanti modi, lo si può spiegare da un punto di vista della teoria evolutiva per la sopravvivenza è necessario risparmiare il tempo questa economia risparmiare il tempo nel tentativo di impossessarsi, far propria la situazione qualsiasi situazione e questo modo di operare per cui si incolla una situazione sull'altra fa risparmiare molto tempo fino a che però non ci si imbatti in una situazione che noi riconosciamo diciamo ah è uguale a quella di prima e in realtà è completamente diversa noi, come prima, in tutti i tempi più remoti si incontrava proprio la morte dell'uomo e di norma quando si arriva a quel punto, fin dai tempi più remoti, questo va a finire con la morte la morte dell'uomo e quindi, perciò, assicurare che non tutte le situazioni parecchie non c'erano molto più e cosa vuol dire che va a finire con la morte? è sicuramente che se poi l'uomo muore non c'è più neanche la possibilità di prendere coscienza del fatto che le due situazioni erano diverse per questo questa idea dell'economia delle risorse ma è per questo che questa idea di fare economia di risorse è un'idea che ha sempre vissuto e che è arrivata fino ad oggi in questo modo potremmo considerare tutto ciò da un punto di vista della storia del peccato, della caduta del peccato originale perché la storia della caduta del peccato originale di per sé è la storia della nostra perdita della libertà quella che è in noi come somiglianza a Dio e da cui noi continuamente ci allontaniamo la libertà da cui noi continuamente ci allontaniamo questo è il fatto che noi abbiamo già riconosciuto andando invece verso una azione pianificata andando verso una situazione che noi abbiamo già riconosciuto cioè noi rinunciamo alla libertà a favore invece di quello che già sappiamo a favore di riuscire a non rimanere in quella paura che ci viene davanti all'incognito e anche in questo caso è una cosa che riusciamo a fare con successo ma proprio solo fino a quel punto quando il rinunciare alle strade della libertà a favore invece dei sentieri già tracciati non diventa catastrofico non diventa catastrofico cioè fino al punto in cui questo lasciare le strade libere per invece seguire solo i sentieri già tracciati non va a finire in una catastrofe ma comunque ci sono tante persone che continuano a camminare seguendo queste strade questi sentieri già tracciati e anche allo stesso tempo aggiudicare le persone che vedendo che questi sentieri non funzionano cercano strade nuove cioè noi è come se continuamente cercassimo di uscire dalle situazioni di libertà e di ignoto quello che non conosciamo in cui noi siamo già sicuri e siamo tranquilli che possiamo fare alcuni passi che sappiamo già bene come fare fino al momento in cui fino al punto in cui noi ci troviamo a usare la nostra mente in questo modo e non facciamo una riflessione su questo ma sicuramente non potremmo capire il testo è impossibile che noi riusciamo a percepire, a ricepire un testo soprattutto in particolare alla sua prima lettura perché la nostra base è stata che il testo non capiscono perché lo dico? perché una delle nostre tesi base era l'affermazione per cui alla prima lettura il testo non si capisce ma perché noi stiamo iniziando a parlare dopo averlo visto una volta dopo la prima visione del film ma visto che adesso stiamo iniziando a parlare di un film di cui ci siamo messi a parlare dopo averlo visto una volta dopo la prima visione del film e visto che, tenendo anche conto del fatto che nel nostro mondo la quantità di informazioni che riceviamo il flusso di informazioni che riceviamo è così grande che a volte non possiamo neanche pensare che alcune cose le rivedremo le guarderemo una seconda volta si ripropone con forza la domanda sul fatto se non sia invece possibile capire qualcosa già da un primo incontro, da una prima lettura, da una prima visione e se sì, come si può fare per riuscire a capire già da una prima lettura la prima visione con tutto ciò che ho detto tutto ciò ha a che fare una nostra esigenza non solo una nostra capacità ma proprio una nostra esigenza l'esigenza che sentiamo di fornire l'interpretazione di qualcosa in una condizione in cui non abbiamo abbastanza informazioni cioè, in una condizione per cui la situazione non è ancora compiuta, completa cioè, che cosa facciamo noi nella vita, nella lettura, nella visione di qualcosa noi iniziamo a interpretare prima di aver finito di leggere, vedere e, inoltre, le nostre interpretazioni possono essere sicurissime sicurissime e, inoltre, le nostre interpretazioni possono essere del tutto distruttive anche per la nostra salute mentale distruttive, tra le altre cose, anche per la nostra salute mentale ad esempio, faccio un esempio vediamo un quadro in cui vediamo una persona, un uomo che si avvicina a un altro uomo che è caduto per strada gli si avvicina, gli si avvicina, gli getta uno sguardo veloce e se ne va via da un'altra parte e noi iniziamo a pensare che è una persona terribile non ha voluto aiutare, non ha voluto coinvolgersi non ha voluto aiutare, non ha voluto coinvolgersi ha voluto pensare solo alla sua tranquillità interiore non ha voluto aiutare, non mischiarsi è sicuramente possibile che questo era un uomo che si avvicinò al medico che si avvicinò al uomo mentre di per sé è del tutto possibile che si trattasse di una persona che aveva una formazione medica ha dato un'occhiata a quell'altro e quindi ha capito che non poteva aiutarlo sul momento ma doveva chiamare qualcuno quindi un po' di più proseguire ogni storia e l'interpretazione può cambiare in molto corto cioè, basta proseguire un pochino una qualsiasi storia e l'interpretazione può non solo cambiare ma andare ad essere addirittura all'opposto questo è per questo è per questo, tra l'altro, che in un certo senso i film che hanno un finale del tutto inaspettato li percepiamo come qualcosa di liberante ci prendono molto e li sentiamo come liberanti probabilmente in questo senso non ci sono più effettivi in un certo senso forse non ci sono film più effettivi da un punto di vista della teoria della catarsi di Aristotele rispetto proprio a questa idea della liberazione della purificazione del lettore perché innanzitutto questi finali è qualcosa che ci libera da quei sentieri già tracciati che imponiamo noi mostrandoci invece che in qualsiasi punto in qualsiasi momento tutto può radicalmente completamente cambiare ma in forza del fatto che noi siamo molto legati alla nostra interpretazione iniziale noi cercheremo sempre di attenerci a quella nostra interpretazione fino alla fine soprattutto se ci sembra che si resta bene in qualsiasi situazione soprattutto se noi abbiamo proprio avuto l'impressione che quella nostra interpretazione si incolla benissimo su quella nuova cosa che abbiamo visto su quella situazione nuova a cui abbiamo applicato il nostro già saputo e questa è una cosa che immediatamente di colpo chiude la nostra mente da tutti quei dettagli che potrebbero aprirla e far vedere che è diverso come la blocca la chiude a tutti quei dettagli che potrebbero invece di nuovo aprirla e far vedere che è diverso quindi noi iniziamo a ignorare questi dettagli noi molto semplicemente chiude la mente che quei dettagli iniziamo a ignorarli ed è per questo che alla fine non capiamo nulla oppure non capiamo niente del finale oppure semplicemente ci fermiamo ad affermare quello che abbiamo capito in tutta la prima parte e rimaniamo fissi su quello quindi quali possono essere i passi che noi possiamo fare passi interiori per avere la possibilità di capire passi che possiamo fare per avere la possibilità di capire un testo già alla prima lettura come sempre in metodo è solo la ricerca che il nostro мозgo è rispetto al metodo la memoria del fatto che la nostra intelligenza la nostra mente il nostro cervello ha come la tendenza a fare il sapere che il nostro cervello ha la tendenza a fare così che cosa significa significa che noi dobbiamo essere in modo assolutamente consapevole mettere in dubbio mettere in dubbio qualsiasi interpretazione che ci viene in mente nel processo di lettura e al contrario essere sempre in modo del tutto consapevoli attenti a qualsiasi dettaglio che va a contraddire le nostre interpretazioni naturalmente in modo natural non riusciamo a farla questo possiamo fare solo in un lavoro di consapevolezza di sforzo interiore di consapevolezza perché lo dico ancora una volta per l'ultima volta la nostra ragione è costruita così funziona così tende a costruire questi schemi che la ragione tende a creare e non appena noi smettiamo di seguire questi schemi che la ragione tende a creare la realtà sulla realtà sulle cose quindi quindi la prima cosa è che per contrastare queste cose possiamo contrastare queste cose solo ricordandoci continuamente del fatto che che qualsiasi interpretazione che generiamo prima della conclusione del testo è un'interpretazione che si genera in una situazione di mancanza di informazioni in cui non abbiamo abbastanza informazioni e che la nostra domanda non è che quindi il nostro compito non è quello di cercare di confermare l'interpretazione che ci è venuta in mente ma al contrario continuare in tutti i modi a cercare di metterla in dubbio e per rispetto a quanto ho appena detto vorrei proporvi un piccolo lavoro pratico un piccolo esperimento voi avete ricevuto una mail oppure ci sono anche alcune stampe di che ho 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 da Sì, vediamo. Questa è una foto. cosa dobbiamo fare? prima cosa sapete degli ornamenti? che cos'è un ornamento? in generale che cos'è un ornamento? che cos'è un ornamento? che cos'è un ornamento? che cos'è un ornamento? quando diciamo che è una decorazione o è un abbellimento queste sono proprio le posizioni di partenza che ci impediscono di capire qualsiasi testo perché abbiamo già capito tutto perché è una cosa semplicemente lì per bellezza di abbellimento e in questo modo abbiamo già risposto alla domanda che cos'è? di che si tratta? e a cosa serve? e possiamo non farci troppi problemi allora iniziamo a dire questo che non esiste un testo e anche l'ornamento è un testo e sapete che l'ornamento è un testo molto antico nessun testo è mai stato creato per bellezza per abbellimento qualsiasi testo è una qualche parola soprattutto se si tratta di un testo antico che viene direzionato a un altro tipo di relazione col mondo deve entrare in relazione col mondo per non perdere tempo dico io già un'altra risposta che viene data abitualmente è un'altra risposta tipica è l'ornamento è mettere insieme alcuni elementi grafici 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 come le parole grafici 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 a questa unione di elementi grafici è come se davanti a noi c'è qualcosa di astratto è vero? grafici 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 grafico ma al contrario qualsiasi elemento grafico è sempre una la riduzione di una qualche immagine. Perché noi di Norma non siamo in grado di leggere gli ornamenti? Perché noi ci vietiamo, ci impediamo di riconoscere negli elementi grafici dell'ornamento delle immagini. Ora guardiamo la nostra immagine, togliendosi dagli occhi questi pregiudizi. Quindi, togliendoci dalla testa l'idea che sia una cosa fatta semplicemente per bellezza che di fatto non ha nessun senso, senso pratico, la seconda cosa, togliamoci dalla testa l'idea che sia soltanto, sia soltanto un ammasso di elementi grafici che non hanno di sotto nessun tipo di immagine. Ci sarebbe ancora una terza cosa, ma proviamo invece a fermarci qua e a provare a capire che cosa è raffigurato in questa immagine. Potete vedere l'immagine la possiamo girare, potete cercare di... Ma, osservate, tenete conto che c'è un buco e che questa asse deve essere appesa da quel buco. Io vedo il mare e due persone. Hai bisogno di lavorare? Scusate. Il mare e due persone. Il mare e due persone. Il mare e due piccoli. Una famiglia del mare. ... Molto mani e due piccoli. ci sono altri 3 omini e ci sono 3 omini anche 3 omini ecco guardiamo un personale un personale è un personale qui è intero il corpo un sacco un sacco l'ultima scherzo da dove a questo è quello che cos'è per l'ostensoria unsa ostensoria ostensoria è un sacco il sacco un sacco altissima ecco adesso continuiamo c'è un sacco Per favore, tutti devono ricordare quello che hanno detto tutti gli altri, cioè dobbiamo ricordarci tutto quello che è stato detto. Cosa facciamo adesso? Non dobbiamo concentrarci sulla nostra interpretazione. Lasciando da parte tutte le altre, come di solito, abitualmente fa la nostra mente. Ma cerchiamo invece di tenere conto di tutto quello che hanno, le interpretazioni degli altri, come se non entrassero in contraddizione. Cerchiamo di tenere a mente tutto. A me sembra come una specie di disegno simbolico, dove uno potrebbe stendersi a pensare, a pregare, qualcosa del genere. dove uno... In che sento? come il cibo con un simbolismo come il cibo con il cibo di simbolismo ok d'arrivo della vita d'arrivo della vita quando diciamo albero? quando diciamo albero? quando diciamo albero ci stiamo fondando su qualcosa? Su quello che dice è raffigurato? Sì. Da. Uccitiamo tutti gli elementi in cui vengono o negli elementi in cui vengono o negli elementi in cui vengono o negli elementi in cui vengono? O ce ne sono alcuni che ignoriamo? Può che c'è corne? No, non ho capito. Quando guardiamo questo risultato e diciamo che è un деревo, dobbiamo uscire tutti gli elementi? O che è un'espluzione? Il buco al centro. Questo è il diraccentro. E' quello che scludiamo. E' lo scludiamo, che nel centro c'è il diraccentro. E' lo scludiamo, che sotto c'è il mario. C'è un'espluzione. Tania, Cristina spraggiamo, perché tu guardiamo le fronte, ma noi guardiamo le fronte. Perché io solo mi ricordo che bisogna guardare le fronte. Perché io semplicemente mi ricordo che bisogna guardare le fronte. No, no, guardate lo giusto. Lei non può tenere così, perché tanto sacchi si guarda così. Ah, ok. mi crede c'è quella dei sensi che è un'espluzione. mi sembra che è un geometrista che dipoglie in giù, che dipoglie in modo diverso, come un simbol che resta aperto sono bene, adesso ti senti la terza non è ancora sembra che tu sia una donna sembra che ci sia un delito sembra che tu sia un donna sembra che un'altra sembra che un'altra sembra che un'altra è una donna sembra che un'altra sembra che un'altra perché ci sono i suoi uomini come si sono un po' come si sono una gamba e il nostro ragazzo, che tratta un uomini come si sono un uomini è un ciclo della vita. Ci sono piccoli, 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 ci sono piccoli. Questo è ancora un esempio di un'interpretazione affrettata. E' quello che noi facciamo tutti di continuo. Non appena si inserisce un elemento grande, buono, che ci spiega qualcosa, noi tendiamo subito a usare di questo elemento per spiegare di nuovo tutto. C'era una mano alzata. Non? Non c'è? Ok. Francesco. Sì. 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 Siamo quasi arrivati al punto. Un'altra cosa che ho notato... Sì. 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 come si fosse una crescita, come una cosa che riesce a tuoi bene, come una cosa di crescere, che hai ragazzo, che hai ragazzo. e poi tre? E questi 3? Osserviamo! A conoscere! C'è una parte di uno con un'altra parte? A un'altra parte! C'è una parte di una foto! Viensi? E' uguale! Si! Si vede? Beh, tanto a loro conoscere! Adesso osserviamo, sotto ci sono questi due uomini Se lo osserviamo sono tratteggiati in modo assolutamente preciso Sono le teste, c'è il corpo, hanno le braccia, hanno le gambe E le gambe sono connesse a questo terreno Dopo che abbiamo osservato tutti gli elementi di questi uomini Possiamo con facilità riconoscere la figura mezzo, mediana Questa che ha tutta un'altra dimensione Guardate la testa, le braccia, il tronco, il corpo e le gambe Non tutti sono riusciti a identificarlo subito Semplicemente perché c'è una differenza radicale di dimensione Perché questa figura è davvero il mondo, la madre, la madre Che realizzava, era quella che poi portava a compimento tutti gli auguri di fecondità Per cui è vero che dentro si vede qualcosa che è come se fosse il sole Che allo stesso tempo è anche un grembo E vediamo che qui ci sono anche, in modo che si riconoscono in modo preciso, delle frecce Questa è una freccia grande La vedete? Sotto, quella rossa sotto E una freccia più piccola Questa è la benedizione e questa è la preghiera Quella che va verso l'alto è la preghiera Quella che va verso il basso è la grazia, la benedizione Cioè nel suo cuore, al suo cuore arriva la preghiera E dal suo grembo procede la benedizione E questi sono i figlioletti Anche questi subito li avete riconosciuti Sono sia qua che qua Ed è come se lei dall'alto li mandasse giù E sì, è assolutamente giusta la sensazione Di Mirella, che ha un desiderio come di sdraiarcici sopra Perché è proprio come un'auto-identificazione con questa grande figura, la figura della grande madre Che in realtà in fin dei conti è qualsiasi donna Che anche lei concepisce nel cuore Come noi sappiamo da tutti gli inni della tradizione sia ortodossa che cattolica La vergine, la madonna, concepisce nel cuore E che prenosce questo benedizione a un nuovo uomo che nasce dal suo grembo E come vediamo Non è che qua ci sia una qualche particolare difficoltà Lo vediamo? Che non è che sia particolarmente difficile leggere questo Cioè, è un testo molto trasparente Molto chiaro Molto attenzione Molto preciso Che è stato proprio creato per esprimere Sì, è un testo molto trasparente E scusate, aggiungo che non è per niente ambiguo questo testo È molto importante Ed è molto importante Perché un augurio come questo non può essere ambiguo Provate a pensare che cosa potrebbe portare Se un testo fatto per essere questo augurio fosse ambiguo Invece si tratta proprio di un enunciato Molto preciso e molto chiaro Che adesso che l'abbiamo riconosciuto è assolutamente evidente E che noi non riuscivamo a leggere perché Perché ce lo impedivano quelle nostre conoscenze pregiudiziali Su ciò che noi ritenevamo fosse un ornamento Noi pensavamo di sapere cosa fosse Perciò non riusciamo a vedere che cos'è Questo è il nostro pregiudizio che entrano in funzione Si mettono in moto davanti a qualsiasi nostro nuovo incontro In modo che abbiamo di percepire qualsiasi testo nuovo Allora qual è il nostro compito davanti a qualsiasi nuovo testo in cui ci imbattiamo Testo che magari non avremo la possibilità di leggere due volte Allora che lavoro dobbiamo fare Il compito che dobbiamo darci è quello di controllare in modo molto severo Il modo in cui la nostra mente funziona rispetto a questi pregiudizi e bloccarli E credo che questo probabilmente sia l'unico modo per arrivare a capire Prima di continuare Perché il passo successivo che faremo oggi Iniziamo a parlare del romanzo dell'idiota e della stranezza di come è comparso questo romanzo Vorrei chiedervi di fare se avete delle domande o qualcosa da dire rispetto a quello che abbiamo detto finora Io ho una domanda rispetto all'interpretazione che hai dato dell'indicato originale Io ho sempre visto come ho deciso di dire che il soggetto di essere la sua libertà Io ho sempre visto come ho deciso di dire che il soggetto di essere la sua libertà Inizia dire che io sono libera Per rispetto a Dio Non lasciare la sua libertà Non lasciare la sua libertà Ma è esattamente in quel momento che la libertà inizia a scomparire E' esattamente in quel momento che la libertà inizia a scomparire Perché? Che cosa significa? Voglio una libertà separata da te Significa che parlando in linguaggio filologico In quel momento Inizia che parlando in linguaggio filologico In quel momento noi cancelliamo il contesto più grande Cioè Noi togliamo, eliminiamo dalla nostra visione del mondo Quello che Dostoevsky chiama continuamente l'origine e la fine Cioè Cioè L'origine e il fine o la fine Seguendo l'Apocalisse E cioè Ripetendo l'affermazione di Cristo Io sono l'Alfa e l'Omega L'inizio e il fine Cioè l'uomo facendo così Si pone in una situazione Di evidente Di evidente Non pienezza Di mancanza di informazioni In cui In cui Dottor E Cioè La riempia con tutte le sue interpretazioni Ma visto che non solo si è così, lui ha rifiutato questo contesto ampio, ma ha anche rifiutato l'origine della sovrabbondanza. Avendo staccato questo legame, questa sorgente che dà l'abbondanza, lui si trova anche a vivere continuamente in una situazione di mancanza. E quindi in una situazione di continua necessità di risparmiare, di fare economia, tra tutto il resto anche di risorse mentali. E per questo che rinuncia alla sua libertà che avrebbe di guardare in modo totalmente libero e non pregiudiziale a qualsiasi situazione. E stremise a qualsiasi situazione, non vedere nuova, ma rinuncare a chiunque. E cerca invece, tende invece a vedere in ogni situazione quello che sa già. A non guardare quello che c'è di nuovo, ma a vedere quello che sa già. Questa è proprio quella riduzione della libertà che noi otteniamo quando seguiamo il nostro desiderio di libertà da qualcosa, liberarci da qualcosa. E in realtà, di fatto, di nuovo, riprendendo il tema del contesto filologico... Noi che cosa diciamo? In fondo i conti cosa diciamo? Vabbè, ma in fondo a noi cosa ci interessa di cosa ha scritto lo scritto? E che ce ne frega di quello che ha scritto lo scritto? E praticamente, così come lì nella caduta del peccato avevamo escluso Dio, allo stesso modo escludiamo l'autore con le sue metaposizioni. Cercando di rimanere invece da soli con quel qualcosa che ci dà un riverbero emotivo. Cioè, di nuovo, noi lottiamo per la nostra libertà nel modo di capire, di interpretare il testo. E facendo così, rinunciamo, rifiutiamo il contesto più grande. Ma rinunciamo anche, di conseguenza, alla possibilità di crescere oltre noi stessi. Per invece tenereci, conquistarci la possibilità di dire io voglio prendere dal testo solo quello che io capisco. Oppure voglio avere il diritto di dire quello che penso io, quello che mi è consono. Alla prossima, l'accello iniziale delle rimanere, che ci sono organizzate tra l'arco fontriere, l'arco fontriere e Dostoievale? Perché, perché, quello che ci siamo diti in tante altre occasioni, Abbiamo parlato molti volte che è sempre pericoloso comparare e autori sulla base di risultati e affinità. E questo lo dico perché invece nella scuola questo tipo di lavoro viene posto continuamente. Cioè tutti i manuali di letteratura che vogliono uscire un po' dalle solite cose cosa fanno in appendice ti metto questi collegamenti più o meno arditi su temi e aspetti. E ho capito che questo è molto fuori vieno. Ma tu hai fatto la stessa cosa. Ma tu hai fatto la stessa cosa? Ma tu hai fatto la stessa cosa? Da, io e mi parla che il scandale Mi avevo detto che sarebbe un scandale e sta già iniziando a manifestarsi. Esatto. Perché è vero che non c'è niente di più pericoloso di questi paragoni superficiali. e non c'è niente di più affascinante per gli insegnanti e per gli autori di questi manuali perché possiamo dire oh, sì, e qui è lo stesso. Perché? Perché possiamo dire ah, sì, e in questo c'è la stessa cosa. e questo è proprio quello che abbiamo parlato di oggi e abbiamo capito. ed è per questo che lo troviamo ovunque questo modo. Ed è la cosa più terribile contro cui bisogna continuamente combattere. ma nella storia di Dostoevsky e di Lars von Trier nella storia di Dostoevsky e di Lars von Trier esistono questi due testi e non parlo neanche del fatto che Dostoevsky nel corso dei tacquini al romanzo l'idiota tre volte, a una lunga distanza, la stessa formula per tre volte, in punti diversi e lontani dei tacquini ripete la stessa formula il principe Cristo e Lars von Trier e Lars von Trier fa questo film che intitola l'anticristo questo è tutto ciò che sto dicendo ciò che sto dicendo ciò che sto dicendo ciò che sto dicendo tutto questo che ho appena detto non è altro che questo livello superficiale di paragone ma cosa dovremmo fare noi? dovremmo rifiutare questi facili ed evidenti messi in paragone che ci spingono a generare un'interpretazione comune dei due testi dovremmo, invece, tenere saldo la nostra mente dovremmo, no, dovremmo, la necessità e che noi dovremmo occuparci dell'interpretazione solo all'interno di uno sistema cioè vanno presi singolarmente e che noi dovremmo occuparci dell'interpretazione solo all'interno di uno sistema cioè vanno presi singolarmente e che solo dopo che avremmo finito, cioè in modo coerente, svolto l'interpretazione all'interno di uno dei due sistemi potremmo, se lo desidereremo molto, provare a occuparci della correlazione, del rapporto che c'è tra i due sistemi cioè il nostro compito impossibile è proprio quello di di non cedere a queste similitudini evidenti che nel caso di questi due testi sono più evidenti che mai e dovremmo, invece, ricordarci bene che si tratta di sistemi diversi e che le chiavi per comprendere quei sistemi si trovano all'interno dei rispettivi sistemi che non potremmo, con la chiave che ci ha aperto uno dei sistemi, aprire la porta del secondo nessun modo il rispetto all'interprezione dell'imagine spero di farmi intendere Quando io ho detto costa insomma, sono partiti implicitamente da un contesto. Perché pensavo come della starci Ferro D'Alene. Se lei fosse stato l'indiana Pasch, è veniva con Ferro. Probabilmente non avrei detto stai insomma. Se non fosse un indiana, non aveva questo. Quindi c'è un problema di contesto. C'è un problema di contesto, ho pensato. Perché ho detto? Perché ho avuto un'esperienza in Città. Perché ho visto alcune foto e interpretato il numero 3. E poi mi sono fermata. E poi mi sono fermata. Perché ho detto che non è una truca in Città. La questione è che un ostensorio è come un grembo. L'ostensorio è quello che contiene in sé il corpo di Cristo. E in questo senso l'associazione era assolutamente giusta. No, ho capito. Io ho capito. Noi siamo assolutamente in questo contesto. Noi siamo assolutamente in questo contesto. C'è una percezione e una interpretazione immediata. Ci sposta immediatamente da una percezione e interpretazione non immediata a una percezione e interpretazione in cui noi riconosciamo un contesto che abbiamo già in mente. E questo è inevitabile. E questo non è inevitabile. Mi sembra che è inevitabile. a capire un testo a una prima lettura, al primo colpo, l'unica possibilità che abbiamo sia quella di escludere questo contesto che è il nostro di partenza in modo consapevole e esplicito, anche se hai assolutamente ragione a dire che è quasi impossibile. E' proprio per questa ragione che noi abbiamo sempre parlato del fatto che la lettura ripetuta e ripetuta e ripetuta è indispensabile. Perché è proprio la lettura ripetuta e ripetuta e ripetuta che va a creare, a dare forma per noi al contesto invece vicino. Ma se il nostro compito è quello di capire al primo colpo, l'unica cosa che possiamo fare è questo lavoro molto coerente e faticoso di escludere il contesto esterno. Ok. 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 . Ok. . Ok. Ok. . . . . nel contesto dell'autore se non attraverso la nostra impressione. E come si fa se non attraverso? noi comunque lavoriamo attraverso le nostre impressioni. attraverso il contesto. il contesto. No, non attraverso il contesto. No, non attraverso il contesto. questa nostra tendenza. Questa nostra tendenza, questa nostra capacità di partire dai nostri pregiudizi. è quello che continuamente chiude la libertà delle nostre impressioni. e questo è una cosa molto complicata. Noi iniziamo a costruire queste logiche logiche. Questo significa questo. Noi iniziamo subito a costruire delle catene logiche. questo significa questo. Noi bisogna eserciare le nostre impressioni. mentre noi ci dobbiamo liberare le nostre impressioni. e questa è una cosa molto complessa. ma se a un certo punto lo riusciamo a fare con un testo letterario, artistico. è difficile anche se noi impariamo a fare questo. e questo punto può crescere la qualità della nostra vita. perché noi impariamo a guardare così una persona. la persona che abbiamo davanti. Iniziamo a guardare le persone davanti. coerentemente spegnendo tutti i pregiudizi che legheremmo a questa persona. metteremmo addosso questa persona. quindi è liberare l'accesso alle persone che abbiamo davanti. iniziamo a guardare l'accesso alle persone che abbiamo avanti. ma quando noi entriamo in rapporto con una persona. possiamo poi dopo rifarci girare in testa la situazione diecimila volte. ma abbiamo già fatto tutto. ma abbiamo già fatto tutto. quindi noi già... io adesso mi raccontro solo per rispettare. cioè quello che farcela rigirare nella testa può non diventare altro che un rimorso che non porta frutto. un dispiacere che non porta frutto per qualcosa che abbiamo già fatto dando un giudizio al primo colpo. ho facciato. mi interessa questo dibattito. mi interessa questo dibattito perché? questa discuzione è interessante. io condivido quello che ci stiamo parlando con la tecima del lavoro su singolo testo. ci stiamo parlando. mi chiedevo però ma un'altra cosa come in un'opera di un autore in un contesto storico e di un attore in un contesto storico e di un attore ad esempio come abbiamo visto nella esperimentazione di gianntica nella scuola che di un'opera di Dostoevsky alcuni insegnanti si lavoravano di lettura di Turgeneva di Puschina procedendo proprio in questa direzione cioè nella direzione di aprire diciamo così l'orizzonte storico-tunale da un signo autore di Dostoevsky e si si accostano a varie letture di autori per dare un quadro di un'epoca di un'epoca di un'epoca allora volevo chiedere non so è una domanda troppo grande ma allora per noi di un'epoca poi ci dà molto ci dà molto per la comprensione di un'epoca in case vicine e allora cosa ci può dare il fatto che ci venga detto che questi due autori vivevano di fianco erano vicini perché ad esempio mettere in paragone Dostoevsky e Tolstoi lasciamo tranquillo e Dostoevsky alla fine della sua vita legge le lettere di Tolstoi sul cristianesimo le lettere di Tolstoi sul cristianesimo le lettere che gli mostra Alessandra Trastea che è la cugina di Trastea e che aveva scritto come una persona che rispettava molto e che aveva scritto come una persona che rispettava molto e lei dice nelle sue memorie mi vergognavo molto a dare queste lettere a Fyodor Mikhailovich cioè a Dostoevsky perché in loro aveva un po' un po' in queste lettere c'era una incomprensione ma così infantile dell'essenza del cristianesimo e quando Fyodor Mikhailovich citava questi pizzi e quando ricorda sempre lei Dostoevsky leggeva queste lettere continuava a fare così e a dire ma cosa ha scritto non è per niente così e proprio non è affatto così cosa ci può dare in questo caso questo spostamento allora cosa ci può dare questo paragone così tra Dostoevsky e Dostoevsky sono vicini ma dall'altra parte proprio con il romanzo L'Idiota ha a che fare una cosa assolutamente strana estremamente strana prima 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 se vi potete capire che l'eroe principale del romanzo si chiama Liev Nikolaevich Dostoevsky in questo romanzo risponde su alcune cose che Tolstoi scrive 10 anni dopo il romanzo L'Idiota perché Dostoevsky in questo romanzo risponde ad alcune cose che Tolstoi scrive 10 anni dopo dopo che esce il romanzo L'Idiota risponde per questo che ha detto miracoli e non è che si tratti poi di cose casuali ma si tratta proprio della questione fondamentale del tipo di visione del mondo che aveva Tolstoi perché dopo 10 anni da quando esce l'Idiota più o meno 10 anni una decina d'anni Tolstoi comincia a sviluppare la teoria della 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 teoria non si capisce non opporsi al male con la violenza è la questione fondamentale di Tastoi che viene fuori 10 anni dopo nella prima parte dell'Idiota Dostoevsky ci mostra l'immagine di un opporsi al male con la non violenza questo come voi tutti lo sapete perché tutti lo sapete come tutti voi lo sapete perché voi tutti avete letto l'Idiota più di una volta alcune lo so per certo è la scena dello schiaffo al principe Dostoevsky andiamo a guardare questa scena come è scritta e così intanto vediamo come costruisce il testo perché lì è importante non solo il senso generale ma alcune frasi molto concrete che vengono usate adesso la troviamo non 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Perché poi Gania andrà da lui a fare pace E gli dice se vuole ti bacerò la mano E il principe gli dice fai la pace come fanno la pace i bambini Cioè lui fa rinascere in Gania quel bambino Che Gania aveva già come dire sepolto Sotto le sue idee adulte Che l'avevano corrotto Che l'avevano reso questo criminale Cioè Questo non è un'azione rivolta ad annientare la persona che ho davanti Ma per quello che capisco io è nel suo genere l'unica possibilità È l'unica possibilità di un'azione che annienti nell'uomo Toglui che voleva o ha commesso il male Liberando per lo meno per un certo tempo da quel male Proprio innanzitutto quel qualcuno Cioè è un'azione che ha commesso il male Dostoevsky risponde a Tolstoi За dieci anni dopo Che Tolstoi sostiene e comincia a diffondere e a propagandare la sua teoria Affermando che non ci sia nessuna altra possibilità Che non esiste nessuna altra possibilità di comprendere questo comandamento di Cristo Che questo non opporsi al male con la violenza Sia nel non opporsi Sia un non opporsi Non sia invece il fermare il male Ma se noi non sapessimo che vicino a Dostoevsky viveva Tolstoi E che questa teoria di Tolstoi nasce dieci anni dopo che è già stato scritto l'Idiota E che si diffonde molto E che sarà molto dibattuta come un'idea filosofica e teologica molto seria Può anche essere che forse qualcosa perderemmo nel cogliere questo tema, questo soggetto in Dostoevsky Senza considerare che quello che propone Dostoevsky non è un luogo comune Ma addirittura è qualcosa di opposto a un luogo comune Cioè che sentendo le domande della sua epoca Dostoevsky risponde a queste domande in un modo completamente diverso Cioè rispetto a quella grande mente che viveva accanto a lui Perché davvero Tolstoi era una grande intelligenza Cioè noi capiamo in che situazione, qual è la situazione in cui Dostoevsky formula questa risposta Dostoevsky risposta normalmente è una differenza in cui Dostoevsky cambia più 5 minuti 5 minuti Cioè la differenza tra ieri mi sonoxesse Soprотивiarse al mare significa volerlo sconfiggere per la non-violenza. C'è Dostoievski e c'è Forza. C'è Dostoievski non sta a pensare a cosa sia il male. C'è Dostoievski non sta a pensare a cosa sia il male. C'è Dostoievski non sta a pensare a cosa sia il male. C'è Dostoievski non sta a pensare al miti. Perché noi proponiamo agli altri di essere martiri, proponiamo agli altri di mettere in pratica i comandamenti, eccetera, ma tutto questo non è possibile. Perché tutto questo io lo posso dire solo rispetto a me. Io sì, lui no. Ci sono detto che dobbiamo finire immediatamente, cercherò di essere rispettosa del regolamento. Cosa facciamo domani? Cosa facciamo domani? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Poi ci stiamo intraaderamente tra le imparature e troviamo nella prima pagine il protagonista. Prima cosa voglio dire? Che significa per voi? Adesso ve lo dico. Cioè, dovremmo dire chi è il primo geroe? Sì, dovremmo trovare il primo geroe romanzo. Dobbiamo trovare nelle prime pagine quello che è l'eroe principale, cioè il protagonista del romanzo. Per fare questo, dobbiamo rinunciare tutto quello che sappiamo già del romanzo. Cioè, lasciare fuori tutto quello che pensiamo già di sapere del romanzo. Le prime pagine finiscono quando il treno si ferma e loro scendono dal treno. Cioè, rileggere fino a lì. Primo della prima parte, inizio del romanzo. E E E Vi chiedo anche di rileggere un altro testo. E' il primo racconto del generale Ivolgin. Cioè, il primo racconto del generale Ivolgin. E' il momento dell'incontro tra il principe e il generale Ivolgin. Cioè, quando il principe Mishkin va a casa di Gania, e incontra il generale, il generale racconta. Sì. E' sempre nella prima parte. Capitolo 5 Sta cercando. Grazie. Sì, capitolo ottavo. Sì, capitolo ottavo. Sì, capitolo ottavo. Sì, capitolo ottavo. della prima parte. E il terzo compito è vedere ciò che si trova tra queste due parti, dare un'occhiata a quello che c'è in mezzo a queste due parti, cioè l'incontro con le ragazze e i pancini, e semplicemente ricordare le percezioni che avete avuto di quell'incontro, qual era il tema principale, magari provate a verificarlo, di cui si è parlato durante tutto quell'incontro tra il principe e le ragazze e i pancini. Del secondo compito cosa dobbiamo tenere presente? Rileggere il testo. Il primo compito è rileggere le prime pagine e cercare il protagonista. Il secondo compito, parallelamente a questo, rileggere il primo sogno del racconto del generale Ivol Ginn e ridare un'occhiata alle pagine dell'incontro tra il principe e le ragazze e i pancini, cercando di ricordare che sensazione avete avuto, cioè di che cosa si parla lì continuamente. Certo? 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 testo perché aiuta a mettere a fuoco proprio i principi basilari e ultima cosa che volevo dirvi è che naturalmente c'è la possibilità per chi è interessato di approfondire il discorso sulla associazione di esse ed è possibile anche iscriversi potete approfittare della presenza di Carlo in questi due giorni oppure fare riferimento a me domani no stasera la cina e alle 8 domani ci vediamo alle 11.30 alle 11.30 qui per il seminario la mattina è dedicata allo studio individuale quindi ai compiti